e si arrabbia tantissimo per la gestione del pallone da parte di Barnell mentre lui è lì che protesta Krushlin ringrazia con la tripla di nuovo 6 punti a separare le squadre Katic per l'uscita di Krushlin che mette a posto i piedi e infila la bomba contropiede 3 contro 1 per Sassari che sceglie Krushlin bravo Katic a leggere la situazione da Krushlin che con l'aiuto di Hepp recupera il pallone poi a tutta velocità verso il ferro e arrivano anche i 2 punti più 3 Sassari torna sotto la doppia cifra il ritardo dell'Epicasa ancora Krushlin altra tripla però Mostic non controlla il pallone Krushlin ne approfitta si alza da 3 altra tripla del Croato